Qui è ora che ci diano una mano a partire dalle istituzioni, dai politici, dai sindaci che loro devono fare qualcosa, bisogna che facciano qualcosa, è ora di farla finita, è ora che ci aiutino tutti, perché se no qui noi già i problemi che abbiamo siamo in un mare di guai, ma di guai ma non piccoli, è ora di farla finita, basta. È un appello accorato ma forte e deciso quello di Marco Roberti, titolare dell'omonima azienda agricola di Montecucco a terre roveresche, come il suo carattere di imprenditore e di cultore del cibo di qualità, che ha fatto dell'amore per gli animali il suo credo. Non si dà pace per la carneficina che hanno perpetrato i lupi, quattro i capi morti azzannati, di cui uno completamente sbranato la scorsa notte nella prima ondata, poi la notte scorsa la seconda con il ferimento, di altri sette capi che portano ancora i segni degli attacchi del branco al collo e alle zampe e quella decina di capretti scomparsi e razziati dai lupi. Si parlava che c'erano questi lupi in giro ma adesso vedere uno spettacolo così veramente ci dà già pochi problemi che abbiamo, ci dà proprio uno sconcerto di quelli grossi, non tanto per il danno delle capre perché uno può dire che le capre valgono poco qua di là, ma è brutto da vedere, è una cosa proprio brutta. Io ieri sera sono andato, mi sono accorto che sono andato con i nipotini a fargli vedere che nasceva un vitello, poi siamo andati a vedere le capre nel pascolo, ne vedo uno morta, poi vado a guardare i caprettini, non ce n'era più neanche uno, poi chiamo gli operai, andiamo a vedere, abbiamo trovato una carneficina, ha fatto proprio una cosa desolante. E poi è qui perché stamattina alle 6 mio fratello l'ha visto passeggiare proprio lì davanti al ristorante, non è che poi ha neanche tanta paura. Fino ad oggi erano state le volpi a togliere il sonno ai Roberti, centinaia negli anni i capi tra pollame e altri animali di bassa corte morti nelle scorerie dell'astuto animale, ma i lupi così vicini alle abitazioni e nell'azienda non si erano mai visti. E come negli altri episodi avvenuti nel territorio, al servizio veterinario dell'Asur non rimane che certificare l'attacco reso inconfondibile dai segni lasciati sul collo alle loro vittime dai lupi. Sì, sono venuto a fare questa constatazione del decesso su capre segnalate dal signor Roberti e i segni sono proprio quelli classici di azzannamento da lupo che classicamente prende sempre dalla gola e poi degli animali feriti si nutre ben poco. E comunque le lesioni sono proprio dopo tricotomia, fatto tutta l'osservazione classica, sono proprio inequivocabilmente da lupo. Gli animali feriti che destino avranno a questo punto? Gli animali feriti che ho visto dovrebbero riuscire a superare la lesione.